Perfetto, quello che volevo dire relativamente al progetto Tiso è che con Martina, proprio grazie anche agli incontri che c'erano stati sull'Open Data e comunque sugli incontri relativi ai progetti InnoSwiss e le presentazioni anche del Fondo Svizzero Nazionale, abbiamo parlato del Tiso e della possibilità di fare un progetto che porti avanti la ricerca sul nostro antico impianto, per modernizzarlo un po', per dargli una nuova linfa e per vedere e di sfruttare a pieno quelle che sono le sue potenzialità. In questo senso stiamo preparando un progetto SNF relativamente alla ricerca di failure tramite riconoscimento di immagini con intelligenza artificiale. Chiaramente io sono coinvolto per quello che riguarda tutta la parte di failure fotovoltaica, mentre Martina ha tutte le competenze e in realtà è lei poi il riferimento per la parte di intelligenza artificiale. La cosa interessante è che con i contatti che abbiamo preso allora al progetto, in realtà lo presenteremo entro il primo di ottobre, quindi la call del Fondo Svizzero Nazionale, purtroppo un po' più in là, però la cosa interessante è che abbiamo contattato comunque Phase One, che è un produttore di hardware, quindi di macchine fotografiche ad altissima risoluzione e abbiamo avuto, incidentalmente ho scoperto appunto che i colleghi di restauro, adesso non so chi c'è, eccoli lì, i colleghi di restauro già stanno usando l'acquisizione immagini multispettrali e quindi ho chiesto a loro, li ho coinvolti per quello che riguarda un po' la sperimentazione di questo hardware che ci mandano gratuitamente, dovrebbe arrivare a giorni, è una mostro da 50 mila euro e che ci inviano gratuitamente per fare delle prove. Quindi in questo senso, questo per fare un po' il quadro della situazione, ma andando poi all'open data, all'open source, la nostra intenzione è di investire appunto nell'open data, nell'open source su questo progetto, quindi presenteremo anche al Fondo Svizzero Nazionale un concetto anche per mantenere i dati open source che è una cosa molto importante perché come abbiamo detto l'unicità di questo impianto è giusto che venga condivisa con la comunità scientifica e dei ricercatori, però chiaramente visto che come purtroppo spesso succede, le risorse sono limitate, a livello di budget per l'open data o per il progetto Tiso non ho per il momento nulla, abbiamo pensato comunque con Martina, facendo una buona preparazione del progetto, speriamo che questo venga accettato chiaramente e abbiamo pensato di investire per il futuro in questo senso. Un'altra cosa importante è che Martina comunque ha già una persona che può fare una tesi sull'argomento, non so Martina se vuoi aggiungere qualcosa tu sul tema. Ma sì, tra l'altro è collegato con gli open data, nel senso che come fase iniziale pensavamo di prendere dei dati già annotati che sono dei dati aperti e che questo studente può iniziare ad analizzare come base per farci anche un po' le ossa su tipi di dati simili a quelli che possono essere del Tiso ma che si trovano già con tutte le annotazioni che ci servono che è un lavoro abbastanza grosso da fare. Quindi da questo punto di vista chiaramente gli open data tornano sempre e ne usufruiremo. Come diceva Mauro, questo non toglie che poi all'interno del progetto vogliamo andare nella direzione dei dati aperti, penso che sia soltanto diciamo uno spostamento delle tempistiche per fare in modo anche da coincidere al meglio con la sottomissione della proposta e poi con lo sviluppo del progetto. Grazie mille, direi che cominciare dal futuro è sempre un buon inizio per una presentazione per cui credo che tra l'altro ci siano belli aggiornamenti anche di altre iniziative e altre cose che stanno realizzando anche le altre persone coinvolte in questo primo anno di open science a SUPSI e i casi studio. Allora intanto volevo prima di tutto ringraziarvi della vostra presenza, c'è anche ovviamente Loredana Alberti con la quale abbiamo lavorato anche quest'anno sul progetto e volevo avere l'occasione appunto un po' di fare il punto su quello che è stato prodotto, molto rapidamente riprendere un po' le file di dove volevamo andare e di dove siamo andati e poi appunto lasciarvi la parola anche per magari appunto altre direzioni, altri passi che possono essere fatti in questa direzione di open science. Io ho preparato una presentazione, ho dato la parola a Mauro Cacivio che appunto potrà essere presente non per tutta la durata del nostro incontro, Giacinta so che anche tu mi hai detto che appunto non riuscivi ad essere presente se non esitare appunto a anche fermarmi oppure intervenire quando più funzionale. Iolanda scusa posso fare una domanda sull'argomento di prima che ha presentato Mauro? Certamente. Io sono Francesca Picchè, Mauro ho scritto, volevo solo domandare lo strumento fase che è geniale che sarà qui per un periodo, per quanto tempo sarà qua? Sarà qua al campus Subsidi Trevano? Sì, sarà al campus Subsidi Trevano, ti dico la verità non mi hanno detto per quanto me la lasciano, ce la lascio. Ok. Poi appunto ne parliamo più in dettaglio perché vista che è un hardware importante volevo anche confrontarmi direttamente con voi e volevo scendere in settimana, il corso finisce domani, quindi magari non so se ci siete venerdì o domani pomeriggio magari scendo e ne parliamo a debita a distanza. Domani pomeriggio sarebbe geniale perché poi abbiamo il cantiere a Lausanna, comunque sì. Ecco, poi ne parliamo più in dettaglio, scusate, grazie. Grazie Yolanda. Prego. E poi Giacinta, c'era qualcos'altro? No, basta. Benissimo. Scusatemi che stavo aggiungendo un partecipante. Ecco, dovremmo esserci. Allora, giusto per cominciare a fare un po'... Eccomi, scusate. Ciao, buongiorno Michele. Buongiorno. Si vedono le slide? Perdonatemi se... Si, si vedono. Perfetto. Allora, giusto per fare una panoramica del progetto, come sapete appunto abbiamo lavorato su questa idea dei casi di studio perché la SUPSI entro il 2024 deve avere tutta la sua documentazione open access per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche e la strategia di Swiss Universities sta andando anche nella direzione dell'open science, quindi sempre più apertura. Inoltre, al di là delle strategie nazionali e internazionali, c'è proprio un'esigenza pratica legata agli enti finanziatori che richiedono appunto di utilizzare, di creare data management plan, di produrre dati che siano aperti, pubblicazioni che siano aperte. Quindi questa esigenza che tra l'altro si sta poi unendo anche a delle pratiche come quelle legate alla citizen science, quindi un'apertura verso il coinvolgimento di più attori, rende necessario appunto avviare una strategia ma anche del lavoro all'interno della SUPSI. E il lavoro che abbiamo pensato di fare e che è stato anche poi sostenuto da Swiss Universities come pratica e che si sta facendo anche a livello nazionale e internazionale, è stato quello di lavorare su dei casi di studio, quindi cominciare a creare degli esempi e vedere quali sono i problemi che emergono e difficoltà. Quindi quello che abbiamo fatto molto rapidamente è stato una prima selezione dei casi di studio con il coinvolgimento dei diversi responsabili della ricerca e poi sono emersi altri casi di studio che sono un po' entrati a far parte del lavoro, più perché c'erano degli esempi che erano significativi, che abbiamo pensato appunto di inserire, di includere e questo processo può andare avanti anche nel futuro. Quello che ogni caso di studio ha prodotto è stata una prima redazione della situazione, accompagnata poi, a seconda del caso di studio, da una seconda redazione in cui sostanzialmente si facevano emergere le caratteristiche di questo caso, di questa situazione e poi che cosa era stato fatto e quali modifiche erano intervenute nel tempo. Quindi quello su cui abbiamo lavorato è una serie di casi di studio molto diversi tra loro, quindi intanto ancora una volta ringrazio tutte le persone che hanno partecipato perché in ogni situazione è stato molto interessante confrontarsi, intanto è stato molto interessante scoprire quello che fate, conoscerlo un po' meglio e vedere il lavoro, perché anche questa è un'occasione bella appunto per conoscere il lavoro di colleghi, ma poi ogni situazione ha presentato dei casi diversi che ha aiutato anche a cominciare a entrare un po' nel merito della situazione. Come potete vedere abbiamo avuto la partecipazione di tutti i dipartimenti e delle scuole affiliate, che è un risultato che ci fa molto piacere e abbiamo avuto appunto un accesso a documentazione anche molto diversa ed eterogenea. Allora giusto per fare una carrellata di quello sul quale abbiamo lavorato, la rivista della didattica di matematica, l'impianto voltaico Ticino Solare, quindi i dati prodotti di cui prima parlava Mauro Cacivio, il caso di studio sugli stuccatori ticinesi di Giacinta, il caso di Gino Severini che è un progetto del Fondo Nazionale che è in corso, di Francesca Picchè scusatemi. C'è stato anche un lavoro legato a come aprire i dati per un progetto legato all'Alpine Space, quindi più legato all'accordo con autori per poter pubblicare immagini e dati di architetti. Un lavoro legato al progetto di pubblicazione di Niccolò Cuppini, che adesso è in corso di realizzazione e che partiva da una serie di conferenze. Un progetto che è stato realizzato con un fondo interno che è Digilav, che vede la collaborazione principalmente della rete del DEAS, ma anche il coinvolgimento del DT. Il tema delle risorse educative aperte sviluppato a DT, quindi con della documentazione prodotta. Un convegno sull'opera italiana del Conservatorio, che ha prodotto poi una serie di video e di documentazione proprio legata all'evento. Il progetto del Fondo Nazionale Disability on Stage, dell'Accademia Teatro Mendrisio. E poi il lavoro della Femba Oschule, con un'analisi delle pubblicazioni, con un focus sull'Open Education Resources, quindi un'analisi di quello che viene prodotto all'interno della scuola in questo ambito e un'idea, un progetto di pubblicazione interna del FFHS. Il principio seguito comunque che era il punto di partenza di tutto questo lavoro era quello di vedere, di aprire tutto, cioè come creare una documentazione, come fare in modo che questi progetti di ricerca siano aperti, con ovviamente la clausola che non sempre tutto il materiale può essere aperto, però il principio è apertura, poi vediamo che cosa non si può aprire, che cosa invece deve restare chiuso. Anche un'indicazione che a me sembra molto semplice e che mi piace ribadire era questo di non soltanto cosa vuol dire aprire, cioè aprire significa creare della documentazione che è facile da trovare, che è facile da citare e facile da riusare, che sono dei concetti secondo me molto semplici che poi ovviamente implicano tutta una serie di azioni, di procedure e di attenzione anche a come vengono prodotti i dati, come vengono preparati i materiali, però in fondo la sostanza di quello che noi facciamo è fare in modo che quello che noi produciamo noi stessi riusciremo a ritrovarlo, altri potranno usarlo e lo citeranno correttamente, lo useranno in un modo che comunque valorizza il nostro lavoro e infine possano comunque andare avanti con la ricerca o possano fare altre cose con il materiale che abbiamo prodotto. Allora cosa è emerso in questo lavoro? Allora intanto appunto come menzionavo sono state fatte delle attività legate all'apertura dei dati, quindi come dicevo sono 13 casi di studio associati ai diversi dipartimenti e scuole affiliate e sono stati prodotti contenuti e sono stati resi accessibili o comunque sono disponibili online, con licenze aperte, più o meno aperte e sono stati fatti anche dei test su diversi tipi di repository. Entrando un po' più nel dettaglio, sostanzialmente ci sono emersi diversi tipi di documentazione e diversi anche tipi di problemi o comunque di attività e di procedure o comunque di sostegno che ha bisogno ogni tipologia di situazione. Adesso questa è la mia proposta di organizzazione del materiale, materiale, possiamo ovviamente anche lì magari riguardarla e vedere se vi sembra adeguata o se magari richiede delle modifiche. Poi entrerò nel merito di quelli che sono gli elementi che sono emersi, che è il punto centrale di cui vorrei parlare oggi con voi e sentire anche un po' i vostri commenti, se abbiamo preso in considerazione tutti gli elementi. Però sostanzialmente ho raggruppato un po' il tipo di esperienze che abbiamo fatto attraverso i casi di studio in queste sei aree. La prima è quella dei progetti di ricerca, guardando i progetti di ricerca, dati, pubblicazioni scientifiche, nel senso proprio di pubblicazioni che vengono fatte con editori esterni o comunque con riviste esterne, progetti editoriali istituzionali intendendo in questo sia il caso della rivista didattica della matematica, quindi una vera e propria rivista pubblicata all'interno della SUPSI, sia anche rapporti interni, pubblicazioni interne che sono comunque una produzione abbastanza ricca della SUPSI. Poi il tema dell'Open Educational Resources in cui ci sono in realtà progetti specifici e un lavoro specifico ovviamente della SUPSI, ma anche materiali didattici, slide e quindi materiale che poi è più parte di tutta la produzione dei diversi corsi. Infine ho inserito in un'area che ho chiamato multimedia un po' tutto quello che è un materiale eterogeneo della SUPSI, quindi immagino, video, siti, internet e l'ho raggruppato in un un unico gruppo perché tendenzialmente richiede comunque un tipo di negoziazione con gli autori, con gli aventi diritti e con le fonti un po' particolare, che comunque ha bisogno di una sua procedura, comunque di una sua attenzione. Quindi entrando un pochino più nel merito del lavoro, prima di tutto qualche indicazione generale, appunto come già detto siamo molto contenti di essere riusciti ad avere la partecipazione di tutti i dipartimenti e le scuole affiliate, con una serie di casi di studio. Ci sembra che sia emerso anche dalle discussioni, ma anche un po' dalla nostra impressione che il tema dell'open science abbia iniziato ad essere affrontato e quindi che vi sia stato attraverso questo lavoro con i casi di studio comunque un primo lavoro di sensibilizzazione. È chiaro che tutte le persone coinvolte, ma anche i responsabili della ricerca hanno visto un po' l'open science in azione e si sono confrontati con i problemi, per cui questo è certamente un inizio di vero e proprio lavoro su questi temi. Ci sono poi delle criticità che sono emerse dalle vostre analisi e poi in generale anche nelle discussioni, quindi un tema comunque di affiancamento, di sostegno da parte delle risorse umane, una difficoltà comunque a integrare queste procedure e anche poi il tempo ovviamente necessario per fare questo tipo di lavoro. In più c'è questo tempo e questa difficoltà di negoziazione con le licenze, quindi un elemento che spesso poi a posteriori è anche difficile rendere operativo, quindi farlo funzionare e infine anche la mancanza di modelli. È anche vero che eravate i primi per la SOPSI, per cui è anche il momento in cui vengono create queste procedure e si creano questi modelli. Nell'indicazione comunque in alcuni suggerimenti che sono emersi anche in generale, la questione del personale, la questione comunque dei ruoli all'interno del processo è uno degli elementi che è emerso, il tema della formazione, la pianificazione, ma anche l'attenzione verso un approccio agli open data che sia anche fair data, quindi prima ancora di aprire i dati, lavorare comunque su una strutturazione e su un'organizzazione dei dati che sia migliore, che sia più appropriata, più curata, la necessità che venga riconosciuto un sostegno concreto per l'applicazione dell'open science e poi temi legati alle procedure, sulle schede progetti, sulle schede online dei collaboratori, in modo tale da valorizzare questo lavoro in più fronti e anche renderlo più facile, più funzionale nelle procedure. In realtà uno dei limiti del lavoro è stato che i progetti di ricerca veri e propri, quindi i casi di studio associati ad un progetto di ricerca non sono così numerosi. Il caso di Francesca Piquet è praticamente un po' un unicum, nel senso che si sta in questo momento svolgendo questo progetto di ricerca con il Fondo Nazionale, per cui possiamo seguire un po' tutte le fasi di questo lavoro e ci permette comunque di costruire un caso di studio nell'esperienza. Negli altri casi si tratta di progetti di ricerca già realizzati, questa era una, ci sembrava più efficace per poter vedere come era l'esperienza, ma in realtà complica un po' le cose, perché fare il lavoro a posteriori è in effetti a volte più difficile che non farlo durante o comunque farlo prevedendo poi la struttura del progetto. Quindi da un lato siamo riusciti comunque a far emergere alcuni dei problemi e dei tipi di apertura di documentazione che all'interno di un progetto di ricerca comunque si affrontano, i temi, le attività, però appunto la possibilità di lavorare su dei progetti di ricerca integralmente potrebbe essere anche una cosa da considerare poi nel futuro. Ho menzionato qui anche bellissimo il fatto comunque che i progetti vadano avanti, il caso di Mauro Caccivio con Martina è veramente positivo, il fatto di lavorare comunque per la ricerca di un finanziamento e quindi utilizzare anche magari bandi o comunque risorse diverse per valorizzare il lavoro che è stato fatto nel passato e i dati è veramente un segnale che comunque si sta andando in una direzione giusta, per cui mi sembra molto positivo. E secondo me potrebbe essere una strategia importante quella di collegare in modo più forte il tema della comunicazione della ricerca scientifica col tema dell'open science, in modo tale che tutto questo lavoro che si sta facendo sia proprio fortemente associato anche una valorizzazione dei ricercatori, del lavoro di ricerca e quindi associato in modo più forte. Anche per esempio nel produrre open data il fatto comunque di annunciare questo lavoro, di farlo conoscere ai colleghi, di farlo conoscere alle organizzazioni, alle istituzioni, università o centri di ricerca che lavorano in quell'ambito può essere appunto una strategia di comunicazione ma anche una strategia di riuso e quindi fortemente iscritta all'interno dell'open science. Il problema dei server e passando poi ai dati, il problema dei server e delle banche dati è senz'altro emerso, quello che adesso sono stati fatti alcuni test su Zenodo, adesso entra un pochino più nel merito, si sono visti anche i limiti del repository in story e ci sono poi dei problemi anche pratici di interoperabilità e di collaborazione o comunque di sinergia tra subsi e le scuole affiliate, quindi anche questo è un elemento che è emerso all'interno dei casi di studio, all'interno del lavoro che avete svolto. Ci sono anche problemi associati alla tipologia dei server, ai costi, alla mancanza di identificativi unici, non vorrei entrare troppo nei dettagli, ho fatto apposta delle schede molto dettagliate per lasciare comunque la documentazione e poi avere comunque un po' una traccia di tutti questi temi, non voglio tediarvi troppo nei dettagli, ma non esitate se c'è qualche tema importante sul quale volete ritornare e ne parliamo magari poi alla fine. Quindi restando sui dati, le banche dati, è stato fatto un bel lavoro e vi ringrazio anche lì di raccolta di analisi, di informazioni su il repository interno subsi che si chiama in story, che è attualmente repository dove pubblichiamo le nostre pubblicazioni, i nostri articoli scientifici e materiali di ricerca, non i dati ma proprio le pubblicazioni scientifiche e i repository, c'è ovviamente il vantaggio di avere già un repository, quindi c'è già una documentazione, però alcuni limiti legati proprio alla capacità di questo repository di essere adeguato come repository istituzionale rispetto al tema appunto degli open data e dell'open science. Il punto chiave molto importante è la mancanza dell'assegnazione di un DOI, di un identificativo unico. Si sta quindi valutando Zenodo come repository proprio di riferimento e la sinergia anche con i repository interno, quindi il collegamento tra un repository interno subsi e Zenodo. Zenodo è una banca dati anche consigliata dagli enti finanziatori, dal fondo nazionale, dall'Unione Europea, è un repository che ha tutte le caratteristiche diciamo corrette, quindi archiviazione su lungo periodo, ampiezza anche dei file che si possono caricare, il fatto che è un progetto no profit, insomma tutti quelli che sono i principi guida sono ovviamente soddisfatti da Zenodo. In più alcuni di voi hanno testato il sistema e il gruppo dei bibliotecari subsi ha fatto un affondo su Zenodo come strumento che sembra molto indicato anche da consigliare. Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, quindi quello che comunemente si chiama open access, quindi riferimento al rendere disponibili i propri articoli o su delle riviste open access, quindi il cosiddetto gold open access, quindi l'articolo è disponibile online, è visibile gratuitamente e accessibile, oppure anche il green open access che vuol dire la possibilità di pubblicare il preprint o una versione precedente della pubblicazione su un repository istituzionale aperto. Anche qui sono emerse alcuni punti critici. Un tema che è emerso in diversi modi è la preoccupazione, se non il conflitto tra open access e scelta individuale, nel senso un po' il timore che il dover scegliere una pubblicazione open access imponga poi di non poter pubblicare per case editrici, per riviste che si ritengono invece di valore. Altri temi sono quelli legati alla difficoltà comunque di negoziare con editori, case editrici, la lettura del contratto, quindi elementi diciamo abbastanza pratici, ma che impongono comunque anche una competenza che non sempre si ha o comunque rendono macchinoso e un po' difficile il lavoro di pubblicazione, con ovviamente poi la difficoltà anche di dedicare tempo a questa operazione, la difficoltà di dover conoscere nuove riviste o appunto negoziare con loro, quindi diciamo tutta una serie di elementi collegati. Un altro elemento importante è anche la questione dei costi di pubblicazione che è emerso a più riprese e che la SUPSI con il servizio ricerca e innovazione sta appunto affrontando e prendendo in considerazione per fare in modo che vi sia un sostegno anche istituzionale per le pubblicazioni. Dal punto di vista positivo è che comunque ci sono state anche esperienze, adesso non le ho inserite come casi di studio, però anche di piccole negoziazioni con editori per monografie, per articoli che sono andate a buon fine ottenendo il green open access, ottenendo comunque un'apertura dei contenuti. Un'altra cosa che secondo me è molto positiva è che abbiamo già un repository come come menzionavo prima, certamente con dei limiti perché il repository in story non è mai stato usato in modo sufficientemente ampio e in modo abbastanza sistematico, però è comunque un database che già funziona e che già raccoglie documentazione e questo ci permetterà tra l'altro anche di cominciare insomma a tenere traccia delle pubblicazioni SUPSI che vanno nella direzione open access. Faccio una carrellata molto rapida sui vari punti perché mi rendo conto che è un po' denso. Comunque passando poi ai progetti editoriali, quindi alle pubblicazioni prodotte dalla SUPSI internamente e il caso appunto della collana che il DEAS desidera avviare con le pubblicazioni sul lavoro, oppure la pubblicazione di didattica della matematica che è una pubblicazione già open access che addirittura adesso è con la licenza Creative Commons Attribution Share Alike inserita all'interno del catalogo DOAJ con appunto attivate altre procedure di accreditamento. Quindi insomma ci sono già pubblicazioni in corso, c'è anche un desiderio e una volontà di lavorare su una delle collane o comunque dei progetti editoriali SUPSI e FFHS di cui era stato citato prima e il tema dell'open access è emerso come comunque un punto di forza, un modo per permettere maggiore visibilità alle pubblicazioni ma anche un miglior prestigio nazionale e internazionale nel momento in cui queste pubblicazioni sono inserite all'interno di cataloghi riconosciuti. Il creare dei progetti editoriali interni open access vuol dire però tante cose, quindi vuol dire avere una collaborazione con gli uffici di comunicazione, il team di comunicazione che impaginino le pubblicazioni in modo corretto con i metadati, con la licenza, con le attribuzioni, il fatto di concordare le licenze con i collaboratori quindi l'attenzione comunque a tutto quello che è codice etico e poi procedure diciamo più formali per fare in modo che si raccolga materiale aperto e apribile. Si sta al momento valutando e avviando un progetto pilota di piattaforma SUPSI open access per le pubblicazioni e questo potrebbe essere appunto un progetto complesso di grandi dimensioni ma una prospettiva molto promettente per migliorare e sistematizzare l'apertura dei contenuti ma anche appunto un impegno etico e un impegno anche di garanzia di qualità del materiale che viene prodotto dalla SUPSI oppure pubblicato attraverso queste riviste SUPSI. Il Open Educational Resources è un tema che è stato affrontato da un caso di studio del DT in modo molto specifico, in realtà è emerso un progetto specifico che ha prodotto appunto materiale aperto per l'educazione, uno dei piccoli problemi di questo progetto era che la licenza non è commerciale e il problema successivo emerso è la complicazione comunque di rinegoziare delle licenze che sono state definite nel passato, quindi quando si tratta comunque sia di fare clearing delle licenze, cioè verificare che tipo di autorizzazioni si hanno oppure quando è necessario coinvolgere i partner nel prendere decisioni su licenze, autorizzazioni, in che modo possono essere rilasciati i contenuti, questo è risultato piuttosto complesso e non è l'unico caso in cui è emerso questo problema, quindi è molto importante che la parte di negoziazione e di accordo sulle licenze venga fatta all'inizio dei progetti ovviamente che rende le cose più semplici. Poi nel caso specifico dell'Open Education Resources c'è un problema di eterogeneità di materiali che si utilizzano per presentazioni con gli studenti e la scelta di rendere disponibile il materiale con licenza libera richiede delle negoziazioni su Cooperite o a volte delle spese proprio di acquisizione dei materiali molto costose, per cui anche questo problema del lavorare con fonti eterogenee risulta essere insomma un elemento di complessità. Ultimo punto, scusatemi per questa carrellata un po' pesante ma ci tenevo comunque a soffermarmi un attimo su tutti i commenti che avete fatto che appunto mi sembra importante insomma non dimenticare fare in modo che ne facciamo buon uso poi nelle pratiche, quindi ultimo punto che ho chiamato multimedia forse non completamente corretto, però mi sembrava che desse un'idea appunto del materiale estremamente eterogeneo che produce la SUPSI, può essere la performance fatta dal teatro Accademia di Midri oppure il concerto del conservatorio, il tema del diritto di un artista oppure il problema anche di coinvolgere un esperto che sta a sua volta facendo ascoltare dei brani musicali che sono coperti da copyright, quindi un materiale che poi ho fatto soltanto qualche esempio di video, immagine ma sono emersi anche problemi legati ovviamente a quando bisogna acquisire materiale d'archivio come fonte all'interno dei dati, all'interno del materiale diciamo preparatorio per i progetti di ricerca e anche lì c'è tutto un problema di eterogeneità di questo materiale, di autorialità, di proprietà diverse, più anche tutta la legislazione sui beni culturali che è un altro tema che non ho inserito ma che è un altro tema che ha un influsso e un impatto sul tipo di ricerche che facciamo. Per quanto riguarda l'apertura dei dati e dei dati che sono così eterogeni è bello che il tema anche dell'accessibilità non soltanto come open access, open science, quindi apertura dei dati da un punto di vista del riuso ma anche proprio come accessibilità, quindi moltiplicare i modi attraverso i quali le persone possono accedere a quel materiale, appunto persone che hanno sensibilità, capacità o difficoltà diverse, questo secondo me è molto interessante e sono convinta che è un tema tra l'altro che è affrontato all'interno della SUPSI da molti ricercatori e che secondo me è bello che sia stato incluso tra i casi di studio e forse ha senso anche farne comunque un elemento importante del nostro approccio sull'open science, cioè non soltanto open science nel senso di apertura dei dati con le licenze ma open science nel senso che la scienza si fa aperta e raggiunge persone di tutti i tipi, è capace di essere inclusiva e coinvolgente e di avvicinarsi a tutti. Quindi questo è un tema che è emerso ovviamente con Disability on Stage che è un progetto dell'Accademia Teatro Dimitri specificatamente focalizzato su persone con disabilità ma è un tema che in realtà può essere sviluppato oltre questo progetto. Ci sono anche altri elementi che sono emersi, quello delle autorizzazioni che più sono eterogeni i materiali più questo richiede autorizzazioni, quindi autorizzazioni dalle persone che sono coinvolte all'interno del progetto come testimoni o come partecipanti attivi, le persone che hanno diritti perché si sta utilizzando un materiale proveniente da più fonti, le istituzioni che devono dare appunto il permesso per accedere a questi materiali e così via. Questo è anche emerso nella produzione dei video della conferenza del conservatorio in cui anche lì per poter registrare il materiale, per poterlo rendere disponibile in cui è necessario avere specifiche autorizzazioni. Quindi finita questa carrellata, perdonatemi ancora per la lungaggine, però su diversi approcci quello che emerge è che ci sono appunto dei materiali che è difficile o non sembra appunto pertinente rendere disponibili. In particolare c'è la questione delle aziende e dei brevetti quindi lo sviluppo di nuove tecnologie in cui mantenere comunque la proprietà del materiale e i diritti sul materiale, un controllo su questo materiale ha senso per lo sviluppo successivo del progetto. Ci sono anche collaborazioni, mandati di ricerca e servizi in cui si lavora con delle aziende e questo non soltanto nel campo della ricerca e servizi ma anche nelle tesi. A volte gli studenti sono coinvolti in progetti che a loro volta implicano una collaborazione con le aziende che richiede accordi di segretezza. Data set confidenziali oppure anche materiale didattico e educational resources che non sembra pertinente rendere disponibili o che comunque bisogna un attimo approfondire vantaggi e svantaggi prima di rendere disponibili. Per quanto riguarda le misure di sostegno e accompagnamento che abbiamo identificato nel materiale che avete prodotto, alcuni temi importanti sono quelli appunto di avere dei modelli di lettere di contratto del materiale che può aiutare appunto nelle procedure. Il tema della formazione è ovviamente molto, è stato molto presente e abbiamo cercato anche di appunto rispondere più rapidamente possibile. La questione delle risorse umane e la questione delle banche dati e degli strumenti infrastrutturali per rendere accessibili i materiali. Ecco, venendo invece a che cosa sta succedendo e a dove siamo adesso, allora per quanto riguarda appunto le indicazioni e come stiamo cercando di rispondere a queste, allora nel sito openscience.subsi.ch trovate già i video delle formazioni che abbiamo fatto quest'anno già su temi inerenti a quelle che erano anche delle richieste, quindi formazione su in generale l'open science, l'open access, il come creare un data management plan e cosa sono i fair data e gli open data, quindi entrando un po' più nel merito di come produrre e preparare dati. Quindi questi sono dei video che sono già disponibili all'interno del sito open science. Inoltre stiamo lavorando proprio sulle indicazioni e i modelli che stiamo concludendo adesso in modo tale da portare maggiore informazioni e avere comunque dei punti di riferimento per i diversi ambiti, i diversi tipi di attività e di documentazione di cui prima parlavo. In questo ambito già trovate della documentazione sul sito e stiamo anche collaborando con il gruppo dei bibliotecari per migliorare il sito, trasferirlo. Adesso ci saranno anche un po' di modifiche dal punto di vista della documentazione online. Un secondo elemento è quello della questione del repository istituzionale e di Zenodo, quindi si sta adesso proprio riflettendo su qual è la strategia migliore per facilitare l'archiviazione della documentazione dei dati da parte della SUBSI. Intanto si è comunque cominciato a delinearsi appunto come dicevo primo un'attenzione per Zenodo come un po' punto di riferimento per la pubblicazione dei dati già aperti e questi possono rendere disponibili e adesso si sta valutando la migliore interfaccia per collegare il ripositore interno al Zenodo. L'altro tema è quello delle procedure. Attualmente questo è un tema che secondo me è importante considerare nel momento in cui si fanno delle modifiche. C'è stato già per esempio nel bando interno SUBSI, trovate già riferimento all'apertura dei dati e l'attenzione, quindi fare in modo che l'open science entri a far parte di quelle che sono le procedure che già abbiamo, in modo tale che sia semplificato e sia in qualche modo inserito all'interno delle pratiche. Questo vuol dire nell'outline di progetto che è appunto la prima bozza di progetto che viene sottoposta per notificare l'avvio di un progetto di ricerca per molti dipartimenti SUBSI, non per tutte le scuole affiliate, però nell'outline di progetto già c'è una richiesta sulle licenze, la scheda di progetto anche lì permette di dare delle indicazioni su come poi verranno gestiti i diritti e forse proprio questo tipo di materiale potrebbe essere potenziato per creare comunque un collegamento a dove si trova la documentazione di riferimento e guidare in modo più forte nella produzione di materiale che sia aperto e che sia collegato e facilmente accessibile. Materiale didattico e ricerche di studenti, anche lì ci sono comunque già delle procedure in particolare per le tesi degli studenti, anche quello può essere potenziato migliorando magari l'apertura delle licenze o comunque facendo delle correzioni sulle procedure in modo tale da non cambiare completamente il sistema ma inserire questo elemento dell'open science all'interno di procedure esistenti. Infine la questione dell'organizzazione interna, quello che si sta facendo attualmente è valorizzare in modo più specifico possibile il gruppo dei bibliotecari, quindi la collaborazione è stata rinforzata con lo scopo appunto di avere il coinvolgimento dei bibliotecari più attivo per la gestione degli strumenti, dei ripositori, delle banche dati anche come sostegno per i ricercatori. Al momento i riferenti open science sono o il responsabile della ricerca oppure una persona nominata dal responsabile della ricerca. In conclusione diciamo che alcuni aspetti chiave del progetto open science UPSI abbiamo bisogno sostanzialmente di poterli monitorare in modo tale da poter anche a livello nazionale dire che cosa stiamo facendo in questo ambito e sicuramente una priorità è quella legata alle pubblicazioni proprio per questo aspetto di voler arrivare entro il 2024 a poter dire che la ricerca in Svizzera è open access e quindi la necessità di fare riferimento a repository aperti come Zenodo e anche ad migliorare il nostro repository in modo tale che sia che sia pertinente rispetto alle richieste open science queste sono sicuramente una priorità. oltre a questo tutta la procedura di avvicinamento all'open science o comunque di lavoro per l'open science all'interno della SUPSI si sta delineando attraverso le linee guida che al momento si stanno adattando a quelle che sono le richieste requisiti di Swiss universities. Ecco, bene ho finito. Vorrei eventualmente poi anche sentire da parte vostra magari qualche commento su quelli che sono state le difficoltà anche dei casi di studio e magari entrare un po' più nel merito se ci sono questioni che sono emerse oppure nuove direzioni in cui si sta andando. Loredana, magari vuoi aggiungere qualcosa sulle direzioni attuali a SUPSI per l'open science? Allora, prima di tutto grazie Yolanda per tutto il lavoro che hai fatto e che ci hai supportato insomma, per il suo ricerca ti ringrazio molto. Allora, sì, volevo aggiungere due cose che hai già accennato. Presto sarà in ufficiale e manderemo la comunicazione sulla possibilità di richiedere un supporto per i costi delle pubblicazioni in open access. Questi relativamente solo a progetti di ricerca che non sono finanziati da enti finanziatori, quale fondo nazionale o progetti europei in cui prevedono già relativamente la copertura dei costi per le pubblicazioni in open access. Quindi si può fare richiesta direttamente in SUPSI. Presto vi manderò tutte le indicazioni precise e requisiti. Secondo, allora sì, le linee guida SUPSI sono state prese in considerazione e verranno prese in considerazione anche la policy che Swiss University ha fornito a tutte le istituzioni universitarie della Svizzera. e appunto dovremmo presto approvare una policy proprio oltre alle linee guida che avevamo già iniziato a redarre e a preparare, ma sarà presto appunto provata anche una policy su open access. Grazie. Ecco, io volevo magari chiedere da parte vostra se ci sono degli aggiornamenti, se volete anche magari enfatizzare dei punti. Noi, quello che ho cercato di fare era dare un'idea di quello che abbiamo raccolto e un'idea di quello sul quale stiamo lavorando che ci sembra in linea con quello che abbiamo raccolto. Se invece vi sembra che ci sono dei punti che non quadrano oppure magari degli ambiti che vanno inseriti o degli elementi che appunto possiamo ampliare o organizzare diversamente, non esitate. Questa è appunto era un po' l'occasione per intanto ringraziarvi che continuo a dirlo, ma in effetti è un elemento abbastanza chiave anche perché alla fine questo lavoro è stato fatto grazie a voi che vi siete anche messi in gioco su nuove attività e poi appunto raccogliere proposte, modifiche, indicazioni. Allora, come proposte curiosità mi veniva innanzitutto da chiedere se nelle varie categorie che avete evidenziato intendete fare una mappatura più fine di progetti analoghi che sono presenti in SUPSI? Cioè, quando cittavi multimedio o altre cose mi veniva di mente anche di altre persone, DFA ma non solo, ma ovvio che DFA lo conosco meglio, progetti analoghi. Allora mi chiedevo, bastano questi casi di studio per riuscire a capire dove collocarsi o avevate intenzione di fare una mappatura più fine? Allora, non abbiamo previsto di fare una mappatura. Io quello che avevo cercato di fare era di far emergere, diciamo, delle questioni con la sensazione che siano utili o funzionali ad altri, oppure che i casi di studio ci hanno mostrato essere più comuni di quanto magari non ci aspettavamo. Quello che si può fare è anche eventualmente sollecitare persone che lavorano nell'altro ambito per trovare la documentazione di riferimento se vogliono appunto rendere accessibile il materiale. Forse la mappatura è più rilevante per eventualmente sollecitare magari queste persone o questi gruppi di ricerca o di collaboratori SUPSI a lavorare un po' di più magari in questa direzione e fornire loro un modello di lettera o un accordo che magari può aiutare poi nella pratica. Ok, lo chiedevo solo perché mi sono venute in mente cose da segnalare, quindi mi chiedevo se eravate interessate alla segnalazione, ma semmai viceversa, informare queste persone che c'è il sito o che ci sono possibilità di approfondire. Questo è un aspetto che mi è venuto in mente. Poi per quanto riguarda il nostro caso di studio, innanzitutto anch'io vi volevo ringraziare perché noi abbiamo avuto spesso bisogno del sostegno che ci avete dato sia per il contatto che ci avete dato con l'Università di Firenze, ma anche vostro personale. Ci è stato molto utile perché al di là dei lati positivi e delle potenzialità che abbiamo già riscontrato, perché noi stiamo cercando di passare in una piattaforma OJS con la nostra rivista, quindi in modo che sia più indicizzata. Abbiamo già visto tutte le potenzialità dell'indicizzazione perché l'abbiamo tenuta aperta per un po' e in effetti si ritrovavano tutti gli articoli. Poi l'abbiamo dovuto chiudere urgentemente perché è ancora in lavorazione, quindi non volevamo che fosse troppo vista. Però abbiamo visto che gli articoli si trovavano immediatamente quando a volte su history o in generale vediamo che invece non sono rintracciabili. Quindi potenzialità nel lavoro che stiamo facendo ne abbiamo visti tante. Visto che ci dicevi Yolanda di sollecitare anche i limiti, quello che tu hai detto è già stato citato tutto secondo me dal nostro punto di vista come caso di studio. Ma in particolare quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare una grande fatica è quello che hai già detto, che essendo i primi e noi imbranati, noi facciamo i matematici o didattica della matematica, non sappiamo fare queste cose e quindi ci arrangiamo un po'. Anche dal lato informatico è abbastanza una prima, quindi ho chiesto aiuto in effetti a Ravano per un sostegno subsi centrale dal lato informatico perché abbiamo sempre paura di fare installazioni e di avere un'infrastruttura che non rega poi la piattaforma. Quindi ci sentiamo un po' carenti da quel punto che tu hai segnalato, cioè il personale qualificato che ci sostenga. Noi come Yolanda e Loredana sanno abbiamo cambiato tante volte le licenze, abbiamo fatto tentative, cambiato e ricambiato. I DOI nel nostro dipartimento si sono stati i primi, quindi non sapevamo nessuno di noi che cosa fossero e abbiamo tentato. Quindi insomma tutti i passi fatti un po' a tentativi e molte volte rifatti perché si sbagliava. Quindi avere persone proprio di riferimento su queste e semmai anche dai servizi centrali aiuterebbero tanto il processo. Però ovvio i primi sono sempre i primi, un po' da cavi e bisogna fare. In ogni caso grazie del sostegno che ci avete dato sempre e costantemente. Silvia, come sai ci stiamo muovendo da tempo con Gian Battista e finalmente avremo una risorsa informatica che ci appoggerà su queste tematiche. Quindi ecco, questo almeno è un buon passo per voi e per voi che almeno possiamo rispondere alle vostre domande e supportarvi al meglio. Ecco, che prima non avevamo proprio i mezzi. La frustrazione è che sembra che non facciamo niente, invece siamo tutti i giorni a tentare e ritentare con ore e ore da imbranati. E quindi ce l'avamo dati come sogno quello di uscire a novembre con la rivista nella nuova piattaforma, tutto funzionante. Però so che questa persona, Loredana, domenica arriva a settembre, non so se sarà fattibile. Questo per dire che... Subito, anche nell'immediato ovviamente, come sai bene, l'inizio delle nuove persone, l'integrazione. Piano piano, ecco, non ti posso assicurare che la settimana dopo che arriva sarà operativo su questa piattaforma per voi. Scusatemi che non l'ho messo nelle slide, è stato appunto assunto una persona con competenze informatiche di sviluppatore all'interno del team ICT della SUPSI, quindi dell'ufficio centrale, che ha proprio un mandato anche specifico sull'open science. Quindi questa persona è un'ova risorsa umana che è utile anche un po' trasversalmente su diverse iniziative. Se mai chiudo questo aspetto qui, no? Perché noi come DFA, l'informatico ci ha provato, ma stiamo vedendo adesso che dal lato dell'infrastruttura escono dei problemi. Quindi più che andare avanti, adesso abbiamo il terrore, perché dopo questo lavoro di implementazione, se dobbiamo rifare, quindi al momento siamo fermi. Tutti i testi, tutto è pronto, ma era solo per informarvi. So che c'è buona disponibilità, so che arriva a settembre, male che vado, usciremo a maggio dell'anno dopo. L'importante è fare il lavoro fatto bene e che tutto funzioni. Ok, sto zitta, dai, so caldi. Anche bene, grazie mille. Mi unisco al coro di ringraziamenti e aggiungo però una piccola osservazione che riguarda la mia esperienza, ma penso che sia stata comune. Questa dell'open science, che è una grande idea, sta comportando un aggravio di lavoro, diciamo, perché si aggiungono una serie di passaggi che in parte si fanno comunque perché i dati sono la base della ricerca, per lo più. Ma questo non vuol dire che poi la gestione di quei dati sia, come dire, segua delle linee guida che devono poi garantirne accessibilità, eccetera, eccetera, perché a quel punto gli stessi dati devono essere anche ordinati e presentati in una maniera che forse non è la stessa che avrebbero se rimanessero nei nostri cassetti. A me sembra che ci sia bisogno non solo di una competenza tecnica, tecnologica, ma di uno sportello, se vogliamo, perché non vorrei nemmeno immaginare che ognuno di noi si debba in qualche modo inventare un semi esperto di open science o di licenze, eccetera, eccetera. Sarebbe forse opportuno avere o immaginare in qualche modo, magari c'è già da qualche parte, ma io non l'ho visto, una forma di servizio centralizzato su PSI, non dei dipartimenti che trovo sarebbe dispersivo e anche rischioso, ma un servizio centrale su PSI, che oltre a quello che potrebbe essere l'aiuto sul fronte tecnologico, sappia suggerire e consigliare l'orientamento da esplorare in funzione della natura estremamente teorogenea del lavoro che uno sta facendo. Per cui, se lavoro su materiali audio e video, potrei avere dei problemi a essere orientato verso alcune soluzioni, se lavoro con interviste in ambito sociologico potrei avere altre esigenze, se lavoro in matematica non lo so. E anche il tipo di mediazione con giornali periodici, case editrici potrebbe essere un utile aiuto, viste tra l'altro le diversità che gli ambiti disciplinari ancora presentano. Per cui avere una persona di riferimento trovo che potrebbe essere un utile aiuto, proprio perché ci sono molte cose che sono ancora da esplorare, magari uno non può dal suo punto di vista vedere quelle complessità, qualcuno che è più, come dire, nella quotidianità impegnato su quel fronte potrebbe essere… Ecco, però l'aspetto tecnologico mi sembra solo uno degli aspetti su cui riflettere, mi sembra che ce ne siano altri, tra quelli la negoziazione del tipo di licenza in funzione del risultato finale, che per noi è, per esempio, è critico, cioè è cruciale. Grazie. Non so se questo può essere il servizio ricerca che ingloberà questo tipo di servizio, o se sarà un servizio che si chiamerà gestione, licenze, open size, non lo so, qualcosa, però… Non è semplice quello che tu dici, perché dal punto di vista procedurale è più semplice, cioè avere qualcuno che suggerisce cosa bisogna fare, nel senso pratico, a noi si fa così, secondo me è un'indicazione più fattibile, più… un tipo di suggerimento più facile, non so, come consigliare dove andare a trovare una rivista open access, dove trovi informazioni sul green open access, cioè questo genere di informazioni, e il servizio ricerca sta focalizzando l'attenzione su il gruppo dei bibliotecari per questo genere di sostegno, cioè l'ideale sarebbe una collaborazione con i bibliotecari, proprio perché conoscono i repository, hanno familiarità con quello che sono le fonti, e quindi tra l'altro anche a livello nazionale e internazionale sono un po' i punti di riferimento su questi temi. Per quanto riguarda invece delle strategie, quello di cui parli tu è comunque più di contenuto, è anche legato appunto a qual è una direzione funzionale rispetto appunto, può essere la produzione dei musicisti, del conservatorio, cioè sono scelte più di programmatiche, magari può essere in realtà interessante utilizzare quello che era fin dall'inizio questo gruppo open science, che sono un gruppetto di persone che già lavorano in questo ambito all'interno della SUPSI con anche Massimiliano Cannata, persone che hanno appunto anche la vostra partecipazione come persone che hanno già fatto l'esperienza dei casi di studio, quindi si può anche vedere come ricreare questo gruppo nel modo migliore, ma magari possono essere delle persone che discutono di questi temi e possono aiutare ad andare in una direzione anche nuova, perché come sempre stiamo parlando comunque di cose che a volte sono anche una prima. Sì, puoi vedere cosa stanno facendo le altre università, ma non è che le altre università stanno facendo cose così avanzate, attenzione che per molti è una prima, soprattutto in certi ambiti complessi come quello dei musicisti, degli artisti, del coinvolgimento di persone diverse oppure di altre fonti. Questo sicuramente è chiaro, diciamo che nella misura in cui questa policy dell'open access è un obiettivo auspicabile, va bene, ognuno negozia nel suo campo in cui ha una expertise disciplinare. Nel momento in cui diventa un obbligo istituzionale al quale uno deve ottemperare in maniera un po' più decisa, lì alcune negoziazioni hanno bisogno poi dei riferimenti un po' più chiari, perché potrebbe succedere che ci sia bisogno di negoziare delle soluzioni che vanno oltre l'interesse specifico, che è disciplinare, che è puntuale, non lo so, io lo vedo come un possibile aiuto di cui immaginare in qualche modo è una specie di sportello, può essere anche uno sportello collegiale, non una singola persona, ma individuare delle persone di riferimento che al momento opportuno possono essere in grado di dare delle indicazioni per negoziare tra quello che potrebbe diventare un obbligo istituzionale e le infinite sfumature con le quali poi ci troveremo anche confrontati. Non so, magari si arriverà, magari si troveranno altre soluzioni. Grazie. Forse magari si può distinguere anche un'assistenza di primo livello e un'assistenza di secondo livello, cioè alla fine nel momento in cui la cosa diventa più complicata, allora si hanno delle persone di riferimento con il quale si organizza una riunione, potrebbe essere magari anche quello un modo di operare, un po' da informatici anche quello, il primo e il secondo livello, forse lo tengo, lo ho noto, perché per ora ho tenuto conto di questo supporto tecnologico che appunto è emerso e appunto lo segnalava ancora Silvia, poi il tema di uno sportello che mi sembra appunto che potrebbe essere questo diciamo di servizio di primo livello, quindi per delle questioni magari non troppo complesse, magari una parte invece più di orientamento, capendo chi possono essere dei riferenti e poi resta anche la questione fondi, richieste di finanziatori che sta svolgendo già come funzione il servizio ricerca e innovazione, quindi potrebbe essere magari un po' questa la geografia del sostegno. Grazie. Iolanda c'è anche un po' da aggiungere la relazione, il report, possiamo dire, non so, dell'articolo che stai preparando sulle licenze e diritti d'autore, ecco da un po' di tempo che siamo appunto con Iolanda preparando, insomma, ho cercato di lanciare un po' già questo bisogno che c'era e appunto ho chiesto a Iolanda di incominciare già a trovare della documentazione e fare una linea guida ufficiale, ma appunto una pubblicazione, un articolo proprio su come affrontare queste tematiche che dicevi tu Massimo. Sì, per fornire delle indicazioni, quindi da una parte delle indicazioni su la scelta delle licenze, come funziona l'accordo con gli autori e poi dall'altro dei modelli di liberatorio, un po' come quelle che abbiamo visto insieme di lettere. Partivamo da questo punto perché quello che è emerso è essere comunque quello che richiede comunque un po' di pratica, è chiaro che però l'obiettivo non è rendere tutti degli esperti di licenze libere, di creative commons, non ha neanche senso, l'ideale sarebbe avere delle indicazioni abbastanza puntuali e poi se si crea una situazione più complessa vedere e capire come può essere gestita. Sapere a chi chiedere. Io vi devo salutare, anche Francesca, abbiamo questa riunione che comincia breve. Arrivederci, buona giornata, grazie Iolanda. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie, ciao. Ci sono magari altre questioni? Bene, se non ci sono altre questioni possiamo salutarci. Adesso con Loredana in programma c'è questo ampliamento del sito in modo tale da arricchirlo con indicazioni e già troverete comunque più materiale legato, tutto sommato questa questione delle registrazioni video di questi tempi dei webinar non sono male per archiviare del materiale. Quindi questa è una prima parte. Sta avanzando il lavoro appunto con i bibliotecari e con il progetto legato al database, anche per le linee guida, quindi si sta andando avanti sia linee guida che policy in modo tale da fornire degli strumenti di accompagnamento. Infine volevamo comunque con Loredana pianificare altri eventi di formazione in modo tale da avanzare comunque mantenendo sempre, anche la formazione poi ha comunque un'utilità anche un po' di disseminare i temi, far conoscere anche sensibilizzare al tema. Resta appunto il dubbio sui futuri casi di studio, se quello che al momento stavamo coltivando, insomma andando avanti sono piccole cose puntuali che riceviamo e a partire da quello che riceviamo arricchiamo la documentazione in modo funzionale, quindi in qualche modo è sempre il principio un po' dello sportello di secondo livello o della pratica in modo tale che la pratica poi diventi formazione e sostegno. Adesso un'idea che ci è sembrata bella è una proposta di Francesca Piché, mi spiace che sia andata via, però la menzione era quella di, siccome prevedono comunque di presentare i progetti della DACD all'interno di una serie di eventi di comunicazione, l'idea è quella di dire, mentre li presentiamo verifichiamo anche l'open access per le pubblicazioni, anche la capacità del progetto di essere accessibile, documentato e quindi archiviato, quindi usare un po' questi momenti di comunicazione dei progetti di ricerca per focalizzare un attimo l'attenzione su l'open science in questi progetti. Quindi questa è una direzione in cui si pensava di andare, che magari può essere interessante anche per altri dipartimenti, altre scuole affiliate. Quindi ci riaggiorneremo per la settimana open access, che di solito è il momento in cui, o almeno una presentazione, o comunque un momento d'incontro anche su questi temi, di solito è la settimana di ottobre in cui si prevedono, e direi non esitate anche a contattarci se ci sono altre cose, altri elementi da inserire o altri dubbi sulle licenze o sull'apertura dei dati. Vi ricordo sempre che nella newsletter della ricerca metto sempre delle informazioni importanti che riguardano una sezione open science, e vi ricordo che a ottobre sempre ci sarà un incontro di Swiss University, anche lì appunto sempre a ottobre Swiss University organizza una conferenza a livello nazionale, ed è utile, appunto l'ho già messa nella newsletter. Ecco, e poi Swiss University a breve lancerà anche la possibilità di fare dei progetti, sempre nel tema open science, che saranno co-finanziati da Swiss University, quindi se avete delle idee che possono essere utili appunto a livello istituzionale e nazionale, perché comunque prevedono anche la collaborazione anche di più università a livello svizzero, ecco se avete delle idee ben volentieri possiamo parlarne, e vi aiutiamo anche a magari appunto a cercare collaborazioni anche con le altre istituzioni universitarie, e definire bene il progetto. Grazie. Benissimo, allora grazie mille a tutti, e a presto allora. Grazie. A presto. Grazie a tutti, ciao. 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 Riccardo? No, andato.